E ciao a tutti ragazzi, io sono Chiara e oggi abbiamo un ospite speciale. A grande richiesta, oggi qui su Brock c'è anche Sara. Ciao! Allora, oggi faremo una sfida di outfit e ci saranno tre temi. Abbiamo il primo tema che sarà il tema natale, perciò corriamo nella location. È bloccato? Sì. Andiamo a prepararci. Sara, vieni qua dietro. Ecco, sì, però tu non mi devi copiare. Allora ragazzi, io ho fatto, non ho usato... Sì, io. Non ho, ok. Non abbiamo usato, mi sembra, niente dal catalog, o perlomeno io, cioè niente di queste cose già fatte. Perciò andiamo a vedere, Sara, questo è il mio outfit molto natalizio. Uh, che carina! Mi dico che sono bella. Io però non mi sono cambiata faccia. Manco io, eh? La c'è la stessa. Beh, la c'è un tipo militare che voleva partecipare al video. Allora ragazzi, questa io non so chi l'ha vinta. Non l'ho meglio. No, sono sincera, sincera. Sincera io. Ah, io direi sincera io. Allora ragazzi, facciamo così. Visto che i commenti YouTube me li disattiva, nella community vi lascerò... un messaggio, mi dovete dire tipo, uno, e che ne so, Sara, due, Chiara, capito? Ora però passiamo al prossimo tema, che sarà... Rosa. Quindi andiamo a prepararci. Troppo bello questa outfit. Io lo salvo. Pure io. Eh, ma abbassati. Ragazzi, ho fatto anch'io, questo è il mio outfit. Sono una baby Barbie, più o meno, un po' più festa faccia in persona. Ma andiamo a vedere. Sara. Aiuto. Vediamo, vediamo, vediamo. Ce l'hai fatta? Sì, ci ho messo di secoli. Sara. Eh. Sara. Eh. Il tema era rosa, non era gil. Non trovavo sui casi rosa. Vabbè. Questo dai mappi lo vincerete. Va bene. Allora, questo diciamo che l'ho vinto io, anche Sara l'ha ammissi. Mi piace troppo questo outfit. Anche questo, per esempio. Solo la maschera e il lecca-lecca dal catalog. Va bene. Il resto... Aspetta, Sara. Sei molto calma. Il resto l'ho preso dalla barra di circa. Sara, che bella. Con il tema non appropriato. È appropriato il primo. Va bene. Allora, Sara, dici il prossimo tema. Il prossimo tema è della scuola, quindi... Tema scuola. Tema scuola. Andiamo a prepararci. Tema scuola. Tema scuola. Ok. Ci salviamo anche questo outfit. Allora, ragazzi. Io stavolta ho usato per tutti gli accessori il catalog. Quindi non la barra di ricerca. E invece per l'outfit ho usato la barra di ricerca. Vuol dire che mi piace molto questo outfit. Vedere. Aspettiamo ancora un po'. Fatto? Fatto? No. Ragazzi, stanno passando secoli, 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 secoli. Sara, hai fatto? Ho fatto. Ah, finalmente. Andiamo a vedere Sara che stanno super curiosa tutto questo tempo. Fatto vedere. Sei ferma. Allora, ragazzi. Chiara, hai detto così per andare a scuola? Eh. Ok. Allora. È la stessa fila. Ci stanno. C'è un altro tipo. Allora. Si può vedere da due punti di vista. Mettili qua. Stai ferma. Uno, la scuola quella... Perché è stata... Uno, la scuola quella normale. No? Un'altra. Sara. Ti fermi? No. Un'altra. Un'altra. La scuola. Roleplay tipo me. Molto più composta sono, eh. Tu con i capelli sciolti, stai. Mamma mia. Allora, ragazzi. Siamo giunti alla fine del video. Vi ricordo che per votare chi ha vinto i vari temi. Vi lascio nella community una specie di sondaggio. E nei commenti mi dovete dire... Lasciate un like. Esatto. E iscrivetevi per altri video con Sara. E nei commenti mi dovete dire tema uno, bla bla. Anche nel secondo tema, anche se Sara ha ammesso che ho vinto io, ditemi... No, hai vinto tu solamente al secondo. Eh, appunto. Al secondo tema. Appunto. Mi dovete dire anche però, secondo voi, chi doveva vincere quel tema. Ma ora vi saluto e vi ricordo di nuovo di iscrivervi se volete altri video. Su Roblox con Sara. Ciao! Al prossimo video!